Prosegue la campagna di comunicazione dell'INAIL sul territorio volta a favorire la più ampia adesione delle imprese alle procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli eventi organizzati anche in collaborazione con gli stakeholder prevedono interventi seminariali che, oltre ad offrire un'informazione tecnica qualificata, veicoleranno il messaggio valoriale finalizzato a sottolineare come l'investimento in sicurezza convenga sia sotto il profilo umano sia sotto quello sociale ed economico. Sul sito e-mail potete trovare tutte le date delle prossime tappe previste e i luoghi di incontro.